Simone Simeri, nuova attaccante della San Benedettese Calcio, un buon esordio in Lega Pro con la maglia del Melfi. Sì, diciamo che sono stato tre anni in Lega Pro con il Melfi, poi l'anno scorso sono partito a Pozzuoli con la Pudiolana, sono stato quattro mesi difficili, ma almeno io mi sono saputo rialzare e sono andato a Rende, dove ho fatto 14 partite e 11 gol, ho fatto un buon campionato e anche grazie a loro che sto qua. Quindi è sicuramente un ottimo biglietto da visita per tutti i tifosi della San Benedettese? Sì, sicuramente, anche perché i tifosi si aspettano tanto da me, io cercherò di fare il massimo, come già ho detto ai amici, allo staff, cercherò di dare tutto me stesso per fare bene, io che vengo da Napoli e Napoli è la piazza più importante che abbiamo in Campania, qui secondo me la Samba è una piazza esagerata, è un blasone che tutti verrebbero, appena me l'hanno proposta subito ho accettato, non sono stato lì a pensare a nulla, anche c'era qualche offerta di Lega Pro, però ho pensato solo alla Samba e sono contento che sto qua.